Le notizie di oggi giovedì 6 giugno. Una lunga serata dedicata all'ascoltante tema della crisi idrica. Ieri sera al Consiglio Comunale di Sciacca vi hanno preso parte il Presidente del CDA e il Direttore Generale dell'Azienda Idrica Comuni Agrigiantini, oltre ai consiglieri comunali dai rappresentanti di alcune categorie produttive e associazioni. Alla fine una soluzione è stata trovata rispetto alla protesta degli autotrasportatori di acqua potabile che durava da 10 giorni. Una soluzione ispirata dal prefetto di Agrigento che in tema di grave emergenza va in deroga ad alcune normative come l'impossibilità che AICA possa servire utenti non collegati. Questo adesso potrà avvenire secondo determinate regole. Riprenderanno dunque il loro lavoro gli autotrasportatori. Su questa stessa vicenda della crisi idrica, dello sciopero degli autotrasportatori e delle proteste dei cittadini, ieri la Polizia di Stato di Sciacca si è recata al Palazzo Municipale per acquisire informazioni rispetto alle criticità che ci sono state nell'ultimo periodo aggravate proprio dallo sciopero. Le forze dell'ordine hanno inoltre partecipato alla seduta consigliare e seguito i lavori. Domani sera si chiude la campagna elettorale per l'elezione europea amministrativa in provincia di Agrigento. Si voterà in sei comuni. Sono sei gli agrigentini che cercano un posto nel Parlamento europeo. In Lizza gli uscenti Pietro Bartolo del PD e Annalisa Tardino della Lega. In campo per la prima volta anche le deputate regionali. Margherita Laroccaruvolo di Forza Italia, Giussi Savarino di Fratele d'Italia. Candidato anche Alfonso Alaimo con Alternativa Popolare per la seconda volta la saccenza Antonella di prima con il Movimento 5 Stelle. La differenziata non va in vacanza e questo è il tema della campagna di sensibilizzazione promossa dalla SRR Ato 11 Agrigento Ovest in collaborazione con i comuni e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio per affrontare l'emergenza dei rifiuti nelle spiagge dei comuni di Menfi, Sciacca, Ribera, Cattolica e Aclea. Il progetto partirà dal 20 giugno e si svolgerà per cinque fine settimana consecutivi. Previste la sensibilizzazione nelle spiagge, prevista la collaborazione di Marevivo, WWF, ASI, Full Immersion. Oltre che attività di volontariato, ai partecipanti verranno donati dei gadget che sensibilizzano alla tutela delle spiagge e del mare. Il maestro Antonio Giovanni Bono sarà l'ospite di questa sera di San Marco Restart 24, i dialoghi contemporanei organizzati presso la struttura turistica Bono Vacanze di Capo San Marco con l'organizzazione del Comitato Provinciale ASI. Musicista e compositore di grande talento, Bono parlerà della sua carriera e dei suoi progetti nel solco di una grande passione e sensibilità artistica che lo contraddistingue. L'incontro è in programma alle ore 18.30. Lo ricordiamo stasera con ingresso libero e gratuito. Domani 7 giugno torna la non edizione di La Lunga Notte delle Chiese, la prima notte bianco nei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, spiritualità. Iniziative nelle chiese a partire dalle ore 19.30. Promotori dell'Avento, l'associazione culturale GoShack GoShack, associazioni, club service e tanti volontari. Calcio, Angelo Galfano guiderà l'unità SiShack anche nel campionato di eccellenza 2024-2025. La società guidata da Ignazio Rizzuto e tecnico di origini trapanesi hanno raggiunto un accordo per proseguire la collaborazione che era terminata nel girone di ritorno con una buona prestazione da parte dei Neroverdi nell'ultimo campionato. A Sciacca mi trovo bene, ha detto Galfano, ora per me è naturale dare seguito al positivo rapporto avuto con la società e con i tifosi. È tutto per questa mattina, grazie e buona giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero Whatsapp.